Era una riprova secondo noi importante, intanto perché era la seconda trasferta dopo la sconfitta di Fondi e poi perché arrivava dopo una bella vittoria in casa con il Messina e quindi ci si aspettava quantomeno continuità di risultato, è arrivato contro un avversario difficile, difficile perché sul piano agonistico forse c'è stato superiore, mentre noi magari abbiamo cercato più di giocare la partita e che ha dimostrato alcuni segnali positivi come quello di riuscire a rimontare per ben due volte lo svantaggio, non essersi arresi mai, durante la fase della superiorità numerica la squadra ha cercato anche in quella fase di giocare al calcio, è comunque un punto che aggiunto ai tre fa quattro, il che non è un dato da scartare.